Seduta della Commissione Speciale Innovazione e Sostenibilità per la Competitività e il Rilancio delle Imprese, preseduta dal Consigliere Regionale, Genaro Saiello, su autonomia differenziata ricadute sullo sviluppo della Regione Campania e dei servizi ai cittadini nel contesto post-pandemico. Nella Sala Caduti di Nasseria, confronto su un tema di grande attualità. I rischi che si potranno avere, insomma, da un punto di vista anche giuridico e costituzionale, seguiranno altre audizioni con il mondo sanitario, il mondo della scuola, del trasporto, delle infrastrutture, dell'industria per fotografare le difficoltà, le criticità, le inefficienze, le carenze già esistenti e parallelamente le perplessità delle ricadute che si possono avere nefaste di questa riforma a firma Lega, a firma Calderoli. Sullo sfondo, dunque, il rischio del divario territoriale che potrebbe crescere a causa di queste scelte governative. La posizione del Presidente di Svimez, l'Associazione per lo Sviluppo dell'Industria del Mezzogiorno, Andriano Giannola. Calderoli dice una cosa molto semplice. Noi possiamo fare l'autonomia, però ci sono delle materie, sempre il solito tormentone, i LEP, non ci sono. Avete ragione, per quelle materie non possiamo procedere a contrattare le intese e quindi quelle materie che necessitano i LEP rimangono congelate. Per il resto si può fare immediatamente la trattativa sulle funzioni da trasferire alle regioni che le facciano richieste. L'obiettivo è anche di avviare un ciclo di audizioni in quinta commissione speciale per analizzare nel contesto post-pandemico le conseguenze di questa legge. Si cercherà di mostrare chiaramente il futuro che si prospetta e apporre in essere i necessari correttivi. Hanno partecipato tra gli altri il Presidente del Consiglio regionale della Campania, Genaro Oliviero, e il Presidente del Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, Massimo Villone. Ritengo che il percorso avviato dal Governo è un percorso che se non viene affrontato nei veri termini, che sono quelli di partire tutti con gli stessi livelli essenziali di prestazioni, avremo delle difficoltà serie non solo in Campania ma in tante altre regioni del Mezzogiorno. Mettere in campo la richiesta di maggiori funzioni che si accompagnano a maggiori risorse da parte di regioni che sono già oggi avanti nello sviluppo e nella ricchezza dei territori significa ovviamente distogliere risorse dai territori in ritardo e togliere risorse alle politiche di riequilibrio territoriale.